Allora ragazzi, buonasera ancora dal Reas, sono le ultime ore, alle 17 il Reas chiude. Volevo prima parlarvi di questo kit per il rischio idraulico e idrogeologico. Questo kit serve per tutti quei lavori che vengono fatti dalla protezione civile sull'argine e a volte vengono fatti in maniera un po' impropria. Vediamo catene umane, gente che si tiene una mano con l'altra oppure che si lega con le corde ai fianchi e non va assolutamente bene. Quando bisogna andare sull'argine a stendere i teloni, mettere le pompe, fare i disgaggi, sistemare qualcosa, bisogna lavorare in sicurezza e con un sistema anticaduta. In questo caso abbiamo una linea vita temporanea che può essere posizionata tra due mezzi, può essere posizionata tra due corpi morti, possono essere utilizzati picchetti appositi e piantati in un certo modo. Può anche esserci, anche se non usiamo una linea vita temporanea, può esserci un ancoraggio naturale presente sul posto, può essere un guardrail, può essere un tronco, chiaramente che abbia una solidità tale che ci permetta di collegarci. Qui utilizziamo una fune con un sistema anticaduta, questo sistema scorre sulla fune in modo tale che ci possa seguire e che lo recuperiamo quando risaliamo in caso di caduta. Si blocca una fettuccia semplicemente per allontanare dal corpo e farci lavorare in maniera più comoda. Poi qui abbiamo un'anticaduta, preferibilmente ancoraggio sternale, perché a volte qualcuno utilizza l'ancoraggio dorsale, però si lavora in maniera scomoda e bisogna essere comandati da un'altra persona a monte. Invece in questo modo riusciamo a progredire autonomamente. Ed è comunque sempre bene avere un giubbetto salvagente per completare il kit. Naturalmente casco e scarpe antifortunistiche sempre indossate. Grazie e ci vediamo alla prossima. A presto!